Grazie, grazie. Mi metto da qui, così posso parlare più comodamente e farvi vedere le diapositive che ho preparato in occasione di questo racconto che mi è stato chiesto di fare sul nostro socio straniero Svantepabo, che qui abbiamo chiamato l'anno scorso grazie all'azione del nostro socio Schiaffino e di altri. E come dico, come ho avuto modo di dire anche in un'intervista televisiva, mi pare fosse il Tg1, abbiamo battuto di un anno l'Accademia Svedese, perché siamo stati noi a chiamare Sbabo o Pebo, come mi dicono gli ben informati, come socio straniero di questa accademia, un anno prima che prendesse il Nobel. Io non sono un genetista, quindi mi perdonerete, farò semplicemente una storia del contributo di questo importante ricercatore e del suo gruppo alle nostre conoscenze sull'evoluzione umana. Appunto, è del 3 ottobre scorso, quindi ormai un paio di mesi fa, che ci arriva la notizia che il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è stato conferito al professor Svante Paebo, socio straniero della nostra categoria 5 della classe di scienze fisiche, per le sue scoperte che riguardano il genoma degli ominini, come si dice oggi, estinti e l'evoluzione umana. E qualcuno mi faceva notare giustamente poco fa che già in questa brevissima notazione c'è una parola che non era mai comparsa nelle attribuzioni di un premio Nobel, cioè la parola evoluzione, e in particolare evoluzione umana. Una scienza in qualche modo di nicchia, potremmo dire, che interessa tutti, ma che ha pochi cultori, diciamo, a livello alto internazionale, e che riceve un importante riconoscimento, forse il più importante riconoscimento scientifico che ci sia da un secolo a questa parte. La notizia ufficiale, proprio la dichiarazione dell'Accademia Svedese, quella che vi sto riportando qui, dove si riconosce un fatto fondamentalmente, cioè che Pebo ha creato una nuova scienza, ha iniziato una traiettoria nuova di ricerche che riguardano la possibilità di estrarre il DNA da specie umane e non solo umane estinte, e tutto questo ha un'importanza sia per le nostre conoscenze sul nostro passato remoto, le conoscenze di queste specie umane estinte, ma anche della nostra specie, perché come sicuramente sapete tutti, e diremo meglio più avanti, queste specie estinte si sono anche incrociate con la nostra, ma è una disciplina scientifica da un lato completamente nuova e dall'altro capace di dare informazioni proprio per quella intitolazione del Nobel che è medicina o fisiologia. e perché effettivamente ciò che noi adesso sappiamo del genoma di queste specie estinte vedrete che ha un effetto importante anche sulla nostra salute. Adesso non starò io qui a fare una specie di biografia di Svante, di cui sapete che porta il nome della mamma, suo padre si chiamava Bergström ed è stato anche lui vincitore di un premio Nobel, a proposito di genetica, che evidentemente ha avuto un effetto nella capacità sia del padre naturale che di Svante di arrivare a questo massimo livello. Si è formato all'Università di Uppsala e poi ha avuto una storia che l'ha portata a Berkeley, poi a Monaco, e infine nel 1997, che è una data fondamentale, a codiriggere il Max Planck Institute for Evolution and Anthropology che tuttora esiste e che è forse la più importante, assolutamente la più importante istituzione di ricerca scientifica europea riguardo l'evoluzione umana, dove a differenza di quello che capita nel nostro paese e in molti altri paesi, c'è un po' uno stile anglosassone nel combinare le varie anime, le varie traiettorie, vorrei dire, forse più che anime, di studio degli esseri umani. Quindi non c'è soltanto l'antropologia fisica o bionaturalistica, come solitamente si dice, ma anche c'è la componente culturale, c'è l'aspetto primatologico, c'è lo studio degli altri primati, l'aspetto linguistico, l'aspetto dell'archeologia preistorica. Insomma, è un istituto dove tutti questi campi disciplinari convergono verso un unico obiettivo, studiare la variabilità umana e la nostra evoluzione. Bene, Svante diventa co-direttore del Max Planck nel 97, e proprio il 97 è l'anno di nascita di una nuova disciplina che possiamo oggi chiamare paleogenomica, grazie a una ricerca fondamentale di cui adesso vi dirò meglio. E poi un'altra data fondamentale è quella del 2010, nella quale succedono anche qui due cose. La prima sequenza genetica nucleare della specie Omone Andertalensis, ma al tempo stesso la scoperta di una specie o una varietà umana estinta che nessuno aveva mai individuato precedentemente, sono i famosi, almeno per chi conosce questi argomenti, denisova. O come mi disse una volta Luca Seriani, a cui chiedevo al telefono, denisoviani, come si dovrebbe dire in italiano, e non denisovani, come dicono alcuni. Bene, allora, a parte il nostro protagonista, di cui vi ho appena detto, vediamo un po' quali sono allora le acquisizioni, e quanto esse hanno a che fare con le nostre conoscenze sull'evoluzione umana, e in particolare le caratteristiche della specie umana moderna. Qui vi ho riportato, proprio come a riassumere tutto ciò che vi dirò nell'arco della prossima mezz'ora, a riassumere un po' l'inizio e la fine di questa storia. L'articolo del 97, che è questo con la copertina di Selle, è una delle punte più alte, diciamo, che si sono raggiunte in questo tipo di studi, che è un articolo del 2018, di quattro anni fa, con copertina su Nature. Ma ci arriviamo. Cominciamo dal primo, 1997, appunto, l'anno della rivoluzione. C'era già da almeno, dunque, 30 anni una linea di ricerca che chiamavamo paleogenetica, ma era qualcosa che riguardava lo studio del genoma delle specie umane attuali, scusate, umane, delle specie viventi, quindi esseri umani, scimi antropomorfe, qualunque altra specie, la banana, comparate tra loro e in base a queste comparazioni, tirando delle distanze genetiche al presente, la possibilità di risalire ai tempi dell'evoluzione. Tutti conoscete quel calcolo che viene chiamato giornalisticamente orologio molecolare, cioè dalle molecole al presente la possibilità di risalire ai tempi delle grandi divergenze evolutive. Fino al 1997 chiamavamo questo tipo di studi, paleogenetica, perché era una genetica che aveva dei riflessi sulle nostre conoscenze paleontologiche. Dal 1997 la storia cambia, perché nel 1997 compare questa copertina di una rivista importante di biologia molecolare con un'immagine insolita per una rivista di biologia molecolare. C'è la calotta cranica di uno scheletro scoperto nel 1856 a Neandertal, la famosa valle in Germania. Questo è il cranio, o parte del cranio, dell'olotipo di Omo Neandertalensis, cioè il reperto di riferimento della specie dei Neandertal, questa specie nella quale noi continuamente ci specchiamo, perché erano così simili e così diversi da noi da essere una specie di interessante confronto quasi allo specchio. Bene, come vedete sotto al cranietto, sotto a questa calotta cranica, c'è scritto Neandertals were not our ancestors. I Neandertal non furono i nostri antenati, questo un po' lo sapevamo, quelli del settore già lo sapevano, che i Neandertal non fossero i nostri antenati, molti ricercatori l'avranno capito anche già da tempo, dai resti fossili, ma che lo potesse dire la genetica non se lo poteva immaginare nessuno, perché era la prima volta che veniva estratto del DNA da una creatura umana, in questo caso estinta. Avere il partito del patrimonio genetico di una forma umana estinta era letteralmente un sogno, che finalmente da questa copertina di cell sappiamo che è stato coronato. E da questo emergono una serie di dati interessanti, per esempio il fatto che appunto i Neandertal non erano nostri antenati, o forse si potrebbe dire non erano parte della nostra specie. A scuola, a molti di noi, ma in alcuni dei libri scolastici ancora, c'è scritto Homo sapiens neandertalensis, contrapposto a Homo sapiens sapiens, come se fossero due sottospecie della stessa specie. No, la morfologia, 150 anni di storia sui Neandertal, e ora il dato genetico, ci dicono che i Neandertal sono una specie distinta da noi. Quel sapiens in mezzo va tolto, è solo Homo neandertalensis da un lato e Homo sapiens dall'altro. Non sono varietà della stessa specie, perché la caratterizzazione genetica che emerge da questo studio dei Neandertal pone i Neandertal esternamente alla variabilità umana attuale, addirittura un paio di deviazioni standard fuori dalla variabilità umana attuale. Come vi dico, appunto, una rivoluzione, una rivoluzione da tanti punti di vista, soprattutto dal fatto che finalmente si corona il sogno di estrarre del DNA. Però, come vedete dal titolo di questa slide, si tratta soltanto di alcuni segmenti di DNA mitocondriale, quel DNA che si trova nei mitocondri e che è tanto utile per gli studi filogenetici. E questo si combina con una ricerca di 10 anni prima, e tante altre che poi ci sono state ovviamente in mezzo, vedete qui le due date, 1987 e 1997. Il 97 è esattamente questa copertina di Cell e lo studio relativo. L'87 era uno studio precedente, fatto proprio in quel laboratorio dove Svante Pabbo era stato post-doc a Berkeley, dove si era arrivati a concludere, sempre sulla base del DNA mitocondriale, ma delle popolazioni umane attuali, che la nostra specie ha un'origine in Africa recente, intorno a circa 200-150 mila anni fa. E tutto questo... Non so se c'è un puntatore qua. Sì, sono un puntatore qua, subito sopra. Questo. Ecco, si vede qua la variabilità umana attuale, studiata con appunto il DNA mitocondriale, che indica una coalescenza intorno a 200 mila anni fa. Oggi sappiamo, un po' più antica, ma insomma all'epoca veniva fuori questo dato intorno a 150. Che vuol dire? Questa è la paleogenetica vecchia, no? Cioè lo studio della variabilità attuale con i suoi riflessi paleontologici, in termini di date, di orologio molecolare, l'origine della specie. Ora, con il nuovo dato, sempre mitocondriale, del Neandertal, possiamo avere un'altra coalescenza, che è quella che vedete qua giù, cioè la distanza genetica tra il Neandertal e la variabilità umana attuale, ci indica una storia molto più remota di divergenza tra la linea evolutiva che ha portato il Neandertal in Europa e la linea evolutiva che ha portato a noi Homo sapiens in Africa. Quindi vedete come le due paleogenetica di prima e quella di adesso con il nuovo studio di Svante Pebo e degli altri si combinano tra loro. Vabbè, poi la storia continua, ovviamente, si riesce a estrarre il DNA da altri Neandertal, sempre il DNA mitocondriale. Qua vi ho riportato così un po' come effetto grafico qual è il primo passo che si faceva, tuttora si fa, estrarre della polvere d'osso da questi reperti così antichi che consente di estrarre del materiale genetico che ancora si è conservato. È quasi incredibile da questo punto di vista che in un reperto che si è reso pietra, quali sono i fossili, possa ancora conservarsi degli elementi di macromolecole come il DNA leggibili ancora oggi. Questo a patto che ci siano almeno un paio di condizioni. La prima è che questi reperti siano sufficientemente, non troppo antichi. Vedete le date che sono riportate in questa cartina. Stiamo dentro i centomila anni dal presente. Io mi ricordo la prima volta che incontrai Svante Pebo proprio qui a Roma l'avevo invitato io, lui e un collega spagnolo a tenere una conferenza all'Istituto Italiano di Antropologia alla Sapienza e ovviamente li avevo portati a pranzo entrambi e si parlava di varie cose e Svante mi disse proprio testualmente non si potrà con ogni probabilità andare mai più indietro di centomila anni. E vedete effettivamente queste date che sono un po' di quegli anni insomma gli danno pienamente ragione. Fortunatamente su questo si sbagliava. Oggi lui stesso è andato diverse centinaia di migliaia di anni più indietro con le tecniche più moderne. E questo ovviamente consente di avere un quadro della variabilità dei Neandertal. tant'è più Neandertal possono essere campionati tanto più si può studiare la variabilità interna dei Neandertal e confrontarla con la variabilità dei moderni di noi Homo Sapiens. Ma poi la storia cambia ancora perché diciamo nei primi anni 2000 incominciano a essere utilizzabili delle nuove tecniche quelle chiamate di Next Generation Sequencing cioè dove si può sequenziare il DNA in modo massivo e questo consente attraverso anche elaborate procedure bioinformatiche di prendere in esame anche piccoli brandelli piccoli frammenti di DNA metterli insieme combinarli tra loro e avere delle sequenze molto ampie. Quindi non più quei piccoli segmenti di DNA mitocondriale ma si può passare a un secondo sogno che è quello del DNA nucleare andare a vedere proprio dentro ai nuclei delle cellule che cosa c'è. E questo viene fatto a tappe una tappa fondamentale è questa del 2010 che già vi avevo un po' annunciato che è quando viene proposto sempre dal gruppo di Pebo e da altri qua vedete sempre il primo nome è sempre qualcuno dei suoi allievi in questo caso è Green in un'altra copertina di Science in questo caso con tre pezzetti d'osso ma tre pezzetti che vengono da un sito che si chiama Vindigia un sito croato popolato frequentato dai Neandertal questi sono reperti che vengono dagli strati geologici documentati come Neandertaliani in cui questi pezzetti d'osso restituiscono un DNA leggibile a livello nucleare quasi l'intero genoma può essere letto in questi pezzetti d'osso combinando come dicevo prima in modo bioinformatico le informazioni provenienti dai diversi segmenti e ottenere un quadro molto interessante che conferma quanto si era detto sul DNA mitocondriale cioè i Neandertal anche a livello del DNA nucleare sono diversi da noi ma come si intravede nello sfondo di questa slide c'è stata qualche scappatella come la chiamo io nel senso che si scopre che si scoprono gli altarini si potrebbe continuare a dire scherzando si scopre che alcuni tratti di questo genoma nucleare sono in comune tra noi e loro cioè che alcuni tratti del genoma dei Neandertal che consideravamo distinti dal nostro in realtà sono presenti a come fossero veramente un pulviscolo nelle popolazioni umane attuali di tutto il pianeta tra l'altro tranne che negli africani subsahariani i subsahariani ovviamente poi vi dirò meglio perché no qui ci sono in questo grafico famoso già appunto 2010 si mettono in conto alcune possibilità una delle quali può essere che è stata seguita per un certo periodo di tempo quasi fino a oggi da alcuni nostri ricercatori anche qui in Italia alcuni nostri bravissimi colleghi hanno continuato a sostenere la possibilità di una substruttura che è questa linea tratteggiata qui l'ipotesi 4 che come c'è scritto qui è anche compatibile con i dati correnti in cui appunto una substruttura antica antichissima presente negli africani ma anche negli antenati dei Neandertal faccia crei questa affinità genetica tra alcune popolazioni umane anzi tutte le popolazioni umane a parte i sud sahariani e i Neandertal ma le altre ipotesi sono appunto quelle dello scenario 2 e dello scenario 3 cioè che ci sia stato quello che in questo grafico in questa tabella viene chiamato un gene flow soprattutto tra i Neandertal e gli antenati di tutti i non africani e questo richiede appunto di sapere un po' come è la storia dell'evoluzione umana del genere uomo in particolare adesso senza farla troppo lunga però qua vedete tempi molto più remoti di quelli di cui stavamo parlando prima 2 milioni di anni eccetera la storia va avanti nel tempo ci sono varie diffusioni geografiche tutte dall'Africa e ce n'è una importante che è quella del possibile ultimo antenato comune prima della divergenza tra la linea europea che è quella che porta i Neandertal e la linea africana che è quella che porta la comparsa di Homo sapiens e alla sua successiva diffusione geografica io qui vi ho rappresentato con questo grande triangolo arancione ora è proprio questa grande diffusione geografica relativamente rapida della specie moderna quelli con la testa grande e rotonda che tende a entrare a far entrare in simpatria le popolazioni anatomicamente moderne con quelle di popolazioni umane arcaiche finché noi i nostri antenati erano solo africani e loro i Neandertal erano soltanto europei il problema non sussisteva per un lungo periodo di tempo abbiamo coesistito noi sapiens i nostri antenati e loro Neandertal con i loro antenati rispettivamente in Africa e in Europa ma nel momento in cui Homo sapiens si diffonde geograficamente ed entra in simpatria cioè entra nelle stesse aree geografiche dove ci sono i Neandertal lì possono succedere varie cose e quello che il DNA che Paabo e gli altri hanno tirato fuori indica che sono avvenuti degli incroci degli incroci fertili tali da mantenere nel genoma di tutte le popolazioni umane attuali brandelli di DNA Neandertaliano e questo è importante che siano brandelli allora innanzitutto diciamo una cosa i subsariani non hanno questi brandelli ovvio motivo i loro antenati non sono mai entrati in contatto con i Neandertal i loro antenati sono rimasti al di sotto del Sahara esenti da qualunque incrocio con i Neandertal perché i Neandertal noi i nostri antenati li abbiamo incontrati uscendo dall'Africa in vicino oriente soprattutto è stato il primo grande contatto ed è lì che però non è avvenuta una totale ibridazione le due specie non si sono fuse altrimenti noi avremo più o meno il 50% di DNA Sapiens e il 50% di DNA Neandertal in realtà noi conserviamo soltanto dei brandelli di quel DNA della specie umana estinta i Neandertal con le loro caratteristiche si sono estinti non c'è niente da fare erano una specie diversa non c'è niente da fare ma sufficientemente vicina da poter consentire delle ibridazioni interspecifiche e questa è la parola magica diciamo così che consente di combinare tra loro due fatti apparentemente in contrasto due specie diverse Homo sapiens e Homo neandertalensis che però formano dei libri di sterili talvolta in un certo momento al primo contatto e questo però avviene raramente in modo probabilmente non sempre fertile e ci sono una serie di dati che tra l'altro negli studi successivi ce lo hanno indicato e che lasciano in tutte le popolazioni anatomicamente moderne del pianeta proprio perché il principale incrocio è avvenuto al primo contatto cioè in vicino oriente appena usciti dal lato vostro appena usciti dall'Africa c'è questa ibridazione un certo numero di ibridazioni interspecifiche e poi non più e quel DNA che era passato in progresso come sapete si dice nel genoma moderno diventa una sorta di pulviscolo che diventa sempre più rarefatto nelle popolazioni umane man mano che esse si diffondono su tutto il pianeta e quindi ecco che si si può spiegare ecco come un po' come ve l'ho raccontato adesso a gesti con un grafico come quello che vedete qui sopra dove appunto proprio il fatto che si tratti di brandelli distribuiti in vario modo in ciascuno di noi detta così molto scherzosamente quasi il piccolo neandertal che ho io dentro cioè quei brandelli di DNA neandertaliano che ho io sono diversi da quelli di ciascuno di voi probabilmente o ciascuno porta un brandello diverso di quelle ibridazioni avvenute qualcosa come 60 mila anni fa o anche anche un po' prima e si mantiene la possibilità quindi che si tratti di due specie diverse capaci però di ibridarsi proprio perché derivano da un antenato comune che è piuttosto recente nel tempo e questo antenato comune alcuni di noi lo chiamano Homo Heidelbergensis sono queste tre linee verdi che vedete qui nel grafico e quindi proprio per la recente separazione evolutiva che avevamo visto già in un grafico ai tempi quando parlavamo del 97 vi ricordate quelle due linee che divergono a partire da circa mezzo milione di anni bene mezzo milione di anni è poco considerate che per esempio tra un cavallo e un asino c'è un milione di anni di differenza evolutiva e di fatti anche il cavallo e l'asino formano un librido ma sterile di solito noi con i Neandertal formavamo dei libri di talvolta fertili e io trovo formidabile che una scienza che si basa su delle ossa rotte possa averlo dimostrato grazie anche a queste ricerche che dobbiamo interamente al padre della parogenomica cioè a Svantepebo in questa slide si parlerebbe di tante cose per esempio che l'intogressione è stata stimata quando ci sono state queste prime ibridazioni in vicino oriente è possibile che l'introgressione sia stata addirittura del 20% che poi appunto polverizzandosi nella successiva diffusione di Homo sapiens sia ridotta a proporzioni molto più basse ciascuno di noi porta qualcosa di variabile tra l'1 e il 3% o tra l'1 e il 4 a parte gli africani subsahariani che come dico di solito nelle conferenze sono gli unici veri sapiens checene di Casalvini ed è bellissimo anche io trovo che tutto questo dà riscontro a un sogno di un paleontologo questo si chiama Bjorn Courten vi consiglio di leggervi il libro è stato tradotto in italiano molto tempo fa il libro si chiama La danza della tigre ed è un libro di fiction come si dice oggi cioè un romanzo ambientato nell'era glaciale di incontro tra queste due umanità i sapiens e i neandertal e Courten negli anni 70 si immagina che potessero dare degli ibridi c'era una bellissima introduzione a quel libro anche nell'edizione italiana di Stephen Jay Gould che dice molto opportunamente che a volte la scienza non arriva ancora a dare delle risposte e queste risposte però possono essere cercate nell'immaginazione creando dei modelli che poi la scienza del futuro magari verificherà o meno bene la scienza del futuro è arrivata perché è proprio grazie alla paleogenomica di Pebo e degli altri che siamo arrivati a poter dire che Bjorn Courten aveva ragione a immaginare un ibrido talvolta fertile tra Sapiens e Neandertal che fosse talvolta fertile o meno non ve lo dico perché sennò vi levo il gusto del libro di Courten per chi lo volesse leggere perché c'è una sorpresa finale in quel libro e poi la ricerca continua continua molto su questa falsariga qua vi ho portato una serie di giusto alcuni esempi insomma di pubblicazioni importanti quasi in tutte queste c'è la firma di Pebo alla fine con considerazioni di vario tipo ma già le abbiamo più o meno fatte parlando appunto dell'ibridazione interspecifiche quello che volevo sottolineare qui è soprattutto questa tabella marrone qua perché abbiamo scoperto Pebo gli altri hanno scoperto e continuano a studiare su questa linea anche nelle ultime conferenze per esempio la conferenza che Svante ha tenuto qualche giorno fa dove a Stoccolma forse lì all'Accademia Calorisca è proprio la linea diciamo medico sanitaria potremmo dire cioè gli effetti di questi alleli di questi brandelli come ne abbiamo chiamati prima di questo pulviscolo di DNA neandertaliano che è nel nostro genoma che effetti hanno sulla nostra salute e una delle prime appunto di esamine di questo problema lo vedete qui cioè alcune per esempio effetti su certe malattie autoimmuni poi col covid proprio Pebo ha fatto un paio di studi in cui ha mostrato come un certo segmento di DNA neandertaliano favorisca l'insorgenza di forme gravi di covid e un altro invece favorisca una maggiore resistenza al covid quindi effetti vari che questo è il futuro in realtà non è tanto ancora il presente che potremo studiare col tempo per capire quanto tutto questo influisca sulla nostra salute è legittima il fatto che a una scienza apparentemente di nicchia venga conferito il Nobel per la medicina o la fisiologia ibridi se ne sono stati trovati anche poi guardando bene i fossili questo è un caso in Romania ma possiamo correrci veloce nel 2017 viene fuori un'alta copertura del genoma neandertaliano ma voglio correre perché vi devo ancora parlare di quello che succede con Denisova e che è un'altra cosa straordinaria allora qua c'è la storia di una grotta sui monti Altai quasi al confine tra la Siberia e la Mongolia dove da tempo siamo il primo decennio di questo millennio da tempo lavorano gli archeologi russi e trovano manufatti che possono documentare la presenza da quelle parti intorno a 40.000 anni fa sia di Neandertal che di Sapiens e questo è ragionevole perché siamo ai limiti più orientali dell'areale di distribuzione dei Neandertal i Neandertal era una forma europea vicino orientale e siberiana potremmo dire quindi lì ci arrivavano i Neandertal effettivamente ma è anche ragionevole che 40.000 anni fa lì ci fossero Sapiens perché i Sapiens compaiono in Africa noi come specie compariamo in Africa 200.000 anni fa incominciava a diffondersi prima in Africa poi fuori dall'Africa e anche quindi verso la Siberia ma non veniva fuori nessun osso a documentare chi fossero i veri protagonisti Neandertal o Sapiens se non che salta fuori questa questa falange falangina falangetta vi ricordate la falange distale l'ultimo pezzetto d'osso di un dito mignolo cioè un osso veramente potremmo dire insignificante si capisce che è un resto osseo si capisce che è umano anche guardandolo magari bene in alcune sue caratteristiche ma francamente dire se è di un Neandertal o di un Sapiens questo è proprio impossibile su basi morfologiche allora lo mandano a Leipzig al laboratorio di Pebo in Germania per vedere se magari ci si possa estrarre il DNA siamo intorno al 2010 quindi ormai il laboratorio di Pebo è famoso per questo e il DNA c'è ce n'è tantissimo c'è l'intero genoma di un Neandertal no di un Sapiens nemmeno di una specie di terzo incomodo una terza variante del genere Homo che da allora viene chiamato i Denisova dal nome della grotta dove sono stati trovati dove è stato trovato questo resto e Denisova hanno delle caratteristiche interessanti che adesso purtroppo possiamo solo vagamente accennare cioè il fatto che sono diversi sia dai noi che dai Neandertal e di parecchio anche qua parliamo di DNA mitocondriale perché il primo studio anche in questo caso è stato prima il DNA mitocondriale e poi verrà il nucleare e in termini di DNA mitocondriale guardate che è molto carino che cosa viene fuori cioè questa è la variabilità di Sapiens che è ampia semplicemente perché è numerosa il campione di studio separata intorno a mezzo milione di anni questo lo sapevamo già da un po' dai Neandertal che è questa variabilità blu e separata ancora una volta dai Denisova o meglio da questo Denisova intorno a un milione di anni dal presente quindi si disegna una ramificazione che tra l'altro è molto intrigante se vi ricordate quel grafico che vi facevo vedere prima con le linee verdi quelle rosse eccetera con la storia di Homo Heidelbergensis la possibile specie ancestrale a tutto ciò ed allora di Denisova se ne parla abbondantemente in paleoantropologia a tal punto che poi sono stati fatti molti studi compresi meglio anche quelle poche caratteristiche morfologiche che fino a oggi Denisova ci stanno restituendo per esempio a livello dentario proprio dalla grotta di Denisova vengono dei denti particolarmente grandi particolarmente arcaici potremmo dire a documentare il fatto che io vi ho appena detto poco fa cioè che il DNA meteocondriale ci raccontava cioè che la linea asiatica rappresentata dai Denisova potrebbe essere quella che si separa per prima da un albero che poi si diverge anche in due tronconi che sono quello europeo neandertal e quello africano sapiens in realtà poi studiando il DNA nucleare i rapporti si invertono e viene fuori il contrario e nel senso che vedete qui una maggiore affinità tra neandertal e Denisova è una separazione precoce della linea africana cioè quella dei sapiens io francamente non ho ancora capito di fatti ne vorrei parlare con qualcuno per esempio magari lo stesso Svantepebo perché loro si siano così tanto innamorati per fare le filogenesi del DNA nucleare quando sappiamo che il DNA nucleare è soggetto a continue ibridazioni scambi genetici e quindi questa affinità tra Denisova e Neandertal io personalmente la interpreto molto più come risultato di ibridazioni genetiche nel corso del tempo secondo una specie di asse trans-uralico potremmo chiamare trans-siberiano piuttosto che un risultato della filogenesi ma insomma altre storie riguardano per esempio la presenza di un Neandertal geneticamente Neandertal questo dito diciamo così di un piede studiato sempre dal gruppo di Pebo nel 2014 viene sempre da Denisova a dimostrazione del fatto che a Denisova c'erano sia Neandertal che Denisoviani ma vedo che il tempo un po' ormai è tiranno per cui vi dirò soltanto che questo 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 scegliete voi quale vi piace di più sono dei grafici più aggiornati più recenti anche se non recentissimi che vi dimostrano tutte le ibridazioni possibili che sono state che sono emerse da che cosa da appunto quella diffusione di Sapiens fuori dall'Africa che uscendo qui in vicino Oriente si incrocia con i Neandertal e poi spingendosi più a Oriente si incrocia anche con i Denisova perché noi tutti noi sul pianeta chi più chi meno abbiamo anche sangue denisoviano cioè abbiamo anche ereditato brandelli di DNA non solo di Neandertal ma anche di questa terza linea evolutiva che deriva da un comune antenato che è quello rappresentato qui grosso modo che è quello che appunto alcuni di noi chiamano Homo Heidelbergensis continuo a dire sempre qualcuno di noi perché c'è molta discussione sul nome da dare a questa specie e poi vi dico un paio di ultime notizie una è quella che ci dice che siamo andati molto più indietro quella predizione di Svantepebo alla cena con me e Arsuaga no era un pranzo con me e Arsuaga al ghetto tra l'altro by the way che diceva non si potrà andare più indietro di centomila anni in realtà si è visto che in certe particolarissime condizioni come quelle della Sima de los Huesos che è un sito formidabile dalle parti di Burgos nella Sierra de Tapuerca in Spagna è stato possibile estrarre lì dai resti vari un femore e anche dei denti è stato possibile estrarre sia DNA mitocondriale che DNA nucleare e qui ci vorrebbe un'altra oretta per poter raccontare bene la combinazione complicata che emerge dal dato mitocondriale da un lato rispetto al dato nucleare dall'altro ma insomma se volete poi ne parliamo separatamente e last but not least quella copertina di Nature di cui vi ho anticipato all'inizio questa mano azzurra e questa rossa che si uniscono sulla copertina di Nature che poi in realtà sono due doppieliche di DNA che rappresentano che cosa? rappresentano il risultato che viene dall'estrazione del DNA da questo pezzetto d'osso che si chiama Denisova 11 un altro pezzetto d'osso che viene dalla grotta di Denisova e che estraendo il DNA e c'è il genoma completo di questo individuo risulta per metà Neandertal e per metà Denisova da cui la deduzione è che la mamma o il papà fossero Neandertal e la mamma o il papà fossero Denisova poi dall'analisi del DNA metocondriale e credo anche dell'Y viene fuori che è la mamma che è Neandertal e il papà che è Denisova ma se guardate dove è questo qua non so se si vede da laggiù ma questa figurina blu che è la mamma Neandertal e questa figurina rossa che è il papà Denisova ha un cuore blu nel senso che nel genoma del papà cioè nella metà paterna diciamo del DNA di Denisova 11 emerge che ci sono stati incroci molto più antichi sempre con i Neandertal quindi è vero che i Neandertal e i Denisova continuamente si incrociavano a più riprese lungo quest'asse che chiamiamo la transiberiana come vi dicevo prima e questo appunto secondo me è un ulteriore elemento che ci dice che tra queste due umanità diverse da noi ci fossero ibridazioni piuttosto frequenti e quindi anche un'affinità genetica maggiore di quanto ci sia con noi in termini di DNA nucleare mentre il DNA mitocondriale e il cromosoma Y raccontano una storia leggermente diversa che è quella della filogenesi io avrei finito grazie grazie